musica 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 adesso vediamo Enrica dopo una seduta indoviniamo da che parte l'abbiamo un po' aiutata a sollevare vediamo il zigomo destro e questa è la parte sinistra musica una bella differenza ti ha fatto male? no musica 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 eccola Enrica dopo la seduta un po' di leggero un leggero arrossamento ma che passa nell'arco di qualche minuta nessun bollino nessuna sostanza estranea sottopelle lei ovviamente è molto brava perché non è ansiosa non si agita durante la seduta e quindi è più facile lavorare con me musica ecco adesso Enrica può andare e sorridere neppure troppo perché i filettini che si sono creati di di elastina sotto sono molto delicati e quindi non strofinare troppo il viso quando ti sciacquo il viso accarezzalo dal basso verso l'alto molto delicatamente ecco perché questi filettini si devono consolidare devono richiamare acqua perché il risultato poi si vede nell'arco delle settimane anche se comunque è già molto evidente la viene girata la parte ok caro Enrica bel sorriso grazie